Mi sono preso i blini, ne ho presi due, me li hanno confezionati da mangiare in strada e devo dire che sono, vedete, ho già fatto un morso, sono molto buoni è la cosiddetta snacinka che è buona, ovvero il condimento che ci mettono dentro sarà fatto, non so con che cosa, anzi non voglio neanche saperlo però effettivamente sono molto buoni e devo dire che costano pochissimo adesso cerco di convertire il prezzo in euro allora costano circa 12 centesimi di euro l'uno ecco proprio, praticamente con un euro te ne prendi otto ecco la proporzione è questa ok ragazzi mi do il buon appetito da solo continuo a mangiarmi questo delicatissimo blini e ci sentiamo alla prossima